dai devi andare a danza su occhio guardate che prelibatezze è mandato il mio amico yuri e adesso vi faccio vedere quello che c'è qua li ha raccolti lui direttamente grazie yuri stiamo facendo gli schemi per la prossima partita sabato inizia il campionato sei pronto? anche tu? vai vai passa da azzurra azzurra vai passa lì vai tira azzurra brava vai passa vai con le mani con le mani ciao ciao con i piedi con i piedi con i piedi ciao ciao e con la testa con il petto con il cuore ciao ciao e con le gambe con il culo con i miei occhi ciao e io